Giovedì 11 maggio, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'edicola Rassegna Stampa. Insieme sfogliamo i giornali, vediamo quali sono stati gli argomenti sui quali i quotidiani hanno dirottato, hanno orientato la loro attenzione. Il Corriere della Sera in taglio alto, nuovi attacchi all'Italia, permane teso lo stato dei rapporti fra Italia e Francia, il partito di Macron sui migranti, Roma è ingiusta, la vicepremiera spagnola, riforme contro i lavoratori. Da Parigi e Madrid critica il governo, Meloni ci usano per regolare conti interni, doppio attacco quindi all'Italia, prima la Francia e poi la Spagna. Da Parigi è Stéphane Seornet, presidente del partito di Macron, ad affondare il primo colpo e poi è seguita anche l'attacco di Madrid, con la vicepremiera che critica il decreto del primo maggio. Il difficile equilibrio tra i poteri, le scelte sul PNRR, i dossier economici sono discussi con sempre maggiore frequenza e questo aspetto, rileva Francesco Giavazzi nel suo articolo, riguarda anche gli stessi componenti della compagine di governo. Fotografia a centro pagina, fa riferimento alla vittoria dell'Inter nel derby di Coppa dei Campioni contro il Milan, Euroderby di Champions, l'Inter vince il primo round, i Nerazzurri battono 2-0 il Milan, martedì la gara di ritorno. Più poliziotti, ma a Milano non è allarme, sicurezza il ministro Piantedosi in città, il ministro Matteo Piantedosi sotto la Madonnina per dare un segnale di presenza in città, è presto addetto, presto addetto, saranno assegnati più poliziotti. Dobbiamo dire che questa è un'esigenza che avvertono non soltanto le metropoli ma anche le grandi città e anche diremmo le città di provincia. Vediamo il Corriere Fiorentino adesso. Soprattutto quelle di grandi città. Aprì sfidando le regole anti-Covid, assolto il leader dei ristoratori ribelli, il giudice Stato di necessità, protesta delle categorie. Ha sfidato il Covid, le regole e lo Stato diventando il leader e il capopopolo della campagna Io apro durante i mesi segnate dalle restrizioni per la pandemia. Adesso il ristoratore ribelle, titolare di una pizzeria in via Baracca, Firenze, è stato assolto per aver agito in stato di necessità. Veniamo al primo servizio di questa edizione della nostra edicola Rassegna Stampa perché si avvicinano le elezioni amministrative. Elezioni amministrative si vota il 14 e 15 maggio, 22 i comuni toscani alle urne, 3 i capoluoghi di provincia chiamati alla scelta del sindaco. Sono Massa, Pisa e Siena. Eventuali ballottaggi previsti il 28 e il 29 maggio. Il servizio è di Massimiliano Mantiloni. È il primo vero banco di prova per il Partito Democratico in Toscana dopo l'arrivo di Eli Schlein alla segreteria DEM. Voto importante anche per il governo Meloni e per il centrodestra che mettono alla prova la loro tenuta. Dopo questi primi mesi la guida del paese domenica si vota dalle 7 alle 23 mentre lunedì seggi aperti dalle 7 alle 11. 22 comuni al voto in Toscana, 3 i capoluoghi di provincia, Siena, Massa e Pisa e altre 19 comuni. Di questi, tre i campi Bisenzio, Pietrasante e Pescia, sono oltre 15.000 abitanti. Per la provincia di Firenze vanno al voto anche Imprunete e Marradi. Per la provincia di Arezzo, Capolona, Caprese Michelangelo e Laterina, Pergine e Valdarno. Per la provincia di Grosseto, Castella Zara, Gavorrano, Magliano in Toscana, Monte Argentario e Semproniano. Per la provincia di Livorno, Capraia e Isola, Rio e Elba. Monte Catini, Val di Ciacina, Santa Maria Monte. Per la provincia di Pisa, per la provincia di Pistoia, Pesce e Ponte Bugianese. Poggio a Caiano, per la provincia di Prato. A Pisi il sindaco sciente Michele Conti del centrodestra chiede agli elettori un voto per il secondo mandato. Gli contendono una poltrona di primo cittadino Paolo Martinelli per il centrosinistra. Francesco Auletta, Aleksandre Dei, Rita Mariotti e Edoardo Polacco. A Siena sono otto i candidati. Anna Ferretti del centrosinistra, Nicoletta Fabio del centrodestra, Alessandro Bisogni, Elena Boldrini, Roberto Bozzi, Massimo Castagnini, Emanuele Montomoli e Fabio Pacciani. A massa otto i candidati e coalizioni spaccate. Tra questi anche il sindaco sciente Francesco Perziani, sostenuto dalla Lega, e l'ex assessore lavori pubblici Marco Guidi, sostenuto da Fratelli d'Italia. Ci sono poi Daniela Bennati, Movimento 5 Stelle, Marco Nezzoni, sostenuto dalla lista Massa Insorge, Guido Mussi, Repubblicani, Cesare Ragaglini, sostenuto dalla lista Cesare Ragaglini, sindaco, Andrea Barotti, Civico, Enzo Romolo Ricci, espressioni del centrosinistra con il partito democratico in testa. Questo è il quadro complessivo in vista delle prossime elezioni amministrative in Toscana. Qualche notizia di cronaca, ancora una rissa ad Arezzo. Nel pomeriggio di ieri, animi fortemente agitati in via Turati, vicino alla rotatoria di via Sette Ponti, ad affrontarsi intorno alle 18,5 cittadini romeni che sono stati subito identificati dagli agenti della polizia e portati in questura. Sono in corso i dovuti accertamenti. Vediamo la cronaca di Arezzo adesso della Nazione. Schianto muore accanto al marito, tragedia di indicatore, un'altra vittima. La Porsche guidata dal benzinaio la portava al lavaggio, il nodo velocità. Quindi l'elevata velocità potrebbe essere una delle cause di quanto è accaduto. Ambulanze al bivio, il giorno della verità. Oggi l'atteso incontro in Regione. I conti sono in difficoltà per tutte le associazioni che devono garantire comunque l'assistenza. I rischi per la rete di soccorso, vale a dire quelle che possono essere anche le ripercussioni nel servizio che viene offerto. All'interno ovviamente spazio dedicato alla tragedia stradale di indicatore, morta insieme al marito. Una famiglia speciale, il dolore di una comunità. Vivevano nel comune di Terra Nuova Bracciolini, nella frazione delle Ville. Erano anche impegnati nel volontariato. Ambulanze al crocevia, oggi vertice in Regione per scongiurare i possibili tagli. Bezzini chiama Rezzo. E poi si parla anche del tracciato futuro della Due Mari, il cavalcavia in giardino, gli espropriati Due Mari. In 200, la prima riunione del comitato, saremo assediati dentro casa. Ho un'azienda, i camion non potranno entrare e chiedono le modifiche. Ci sono i rappresentanti di questo comitato che chiedono di rivedere un po' quelle che sono le caratteristiche principali di questo progetto. Economia un anno rallentatore, la crescita tiene ma i consumi calano. Questo è quanto emerge anche dal rapporto Prometeia, che è stato sviluppato dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Mentre a fondo pagina, uno studio di CNA, le tasse pesano, ma meno che nelle altre province. Perché? Perché questo rapporto che è stato redatto da CNA dimostra che Arezzo è una città virtuosa, ma il 52% del reddito di impresa viene assorbito dalla tassazione. Proprio il rapporto fra tasse e imprese è l'oggetto di una indagine condotta dalla categoria del settore artigiano. Vediamo insieme il servizio che abbiamo realizzato. Lo studio è stato condotto dall'osservatorio CNA sulla tassazione delle piccole imprese, ha quindi un carattere nazionale. Si tratta di un monitoraggio compiuto tra i capoluoghi di provincia italiani sul peso della tassazione e sulla lunghezza del periodo di lavoro che le stesse imprese devono sostenere per fare fronte ai debiti verso lo Stato. Arezzo è capoluogo virtuoso. La città si piazza al nono posto in ambito nazionale, prima in Toscana. L'incidenza della tassazione è qui minore che altrove, ma il problema per le imprese rimane. Avremmo bisogno di una riduzione, più che altro una razionalizzazione, oltre a una riduzione delle alipotele IRPEF e di una semplificazione per quanto riguarda il fisco. Per le amministrazioni comunali dobbiamo riconoscere che sul comune di Arezzo non ci sono stati aumenti, anzi negli anni questa pressione è diminuita per quanto riguarda le tasse locali. L'amministrazione comunale da quando è in carica dal 2015 si è adoperato a far sì che almeno la pressione fiscale per i due tributi principali e quindi l'IMU e l'addizionale IRPEF non incrementasse. Noi abbiamo mai incrementato nessun'alliquota in positiva e quando c'è stata l'opportunità l'abbiamo fra le due ridotta, come ultimamente per gli edifici B1. Vediamo se riusciamo a collaborare con il comune, più che altro se il comune si vuole avvalere la collaborazione delle categorie economie e delle associazioni per capire se ci sono margini di miglioramento. Vediamo. Queste appunto sono state le valutazioni espresse dal presidente di CNA Mascagni e anche dall'assessore Alberto Merelli presente all'incontro nella sede dell'associazione. Vediamo adesso qualche notizia dai territori, con particolare riferimento al Valdarno. Capannone confiscato alla mafia diventa deposito di mezzi comunali, sei mesi di lavori per la nascita di uno spazio polivalente ricavato all'interno della fabbrica, costo 450 mila euro. Blitz tra le creme cosmetiche e finanza dannose per la pelle, da qui parte il maxi sequestro, vale a dire è stata un'operazione che è iniziata a Montevarchi e poi si è estesa anche in altre zone di Italia, per esempio a Roma e Reggio Emilia. Altre notizie sempre dai territori, chef speciali in vetrina, in vendita prodotti locali tra marmellate e sughi, sfida della cooperativa, la cooperativa di Castiglion Fiorentino che già in passato si è segnalata per altre iniziative. Torna il carnevale estivo, i giganti di cartapesta di nuovo sulle strade, a giugno la sfilata, questo a Foiano. Giardino di Piero a Sansepolcro, Taglio degli Alberi, Comune afferma che sono pericolosi e quindi è necessario, ma in centro esplode la protesta, esplode la protesta perché qualcuno evidentemente si oppone al taglio di queste piante. Poi lo speciale Oro Arezzo perché parte questa manifestazione che ormai è diventata tradizionale e rappresenta in fondo anche una vetrina e un focus sull'attuale situazione del mercato dell'oreficeria. E poi ancora qualche altra notizia qui di sport, intermicidiale, colpi da finale. Vediamo il Corriere di Arezzo adesso, sei mesi di lavoro vanno al fisco, abbiamo visto anche il rapporto che è stato presentato da CNA, il reddito delle imprese a retine fino al 1 luglio serve a pagare le tasse, quindi di fatto il rapporto di CNA conferma che la pressione in fondo è piuttosto elevata, troppo elevata. Schianto è morta anche la mamma, aveva 50 anni, famiglia distrutta, morti, deceduti, entrambi i genitori, grave il figlio. Qui in queste immagini l'auto sulla quale viaggiavano. All'interno vediamo le notizie, si parla ovviamente ancora dell'indagine sulla tassazione. Poi, e anticipazioni anche su Oro Arezzo, l'export crescerà ancora e poi da 45 paesi del mondo per il business dei gioielli, quindi una presenza anche notevole di buyer, di rappresentanti di altre nazioni. Tracciato E78 in 200 all'Assemblea nella zona di Via Salvadori, preoccupazione per gli espropri dei terreni, via alle osservazioni. Una riunione molto partecipata. La centrale del 118 rimanga ad Arezzo anche dopo Mandò, lo dice il vice sindaco di Arezzo Tanti, perché nel prossimo luglio Massimo Mandò, responsabile dell'emergenza urgenza, andrà in pensione. Finalmente, lavori al canile sono delle valutazioni, di fatto anche positive, in questo caso dei lettori, che mettono in evidenza come il rifugio di Badia Tedalda, grazie alle sollecitazioni di una cittadina, sia stato oggetto di lavori di riqualificazione, tuttora in corso. Notizie dalla Toscana, poi ancora notizie dall'Italia e dal mondo, e quindi ci soffermiamo anche sui territori, per esempio qui a Terra Nuova, lavori al capannone confiscato, interventi per 450 mila euro sulla struttura, sottratta alla criminalità organizzata. A Cortone il Marchese Antinori si espande negli Stati Uniti, acquisirà entro giugno la proprietà di una prestigiosa azienda di oltreoceano, e quindi accresce ulteriormente il proprio ambito di interesse, il proprio ambito operativo. Il ponte sul Tevere aprirà, il vice sindaco Marzi replica ai dubbi del Movimento 5 Stelle, siamo a Sansepolcro, i lavori si avviano ormai alla fase conclusiva, per questa opera che dovrebbe sicuramente rendere più fluida, più scorrevole la circolazione alle porte di Sansepolcro. Stazione ancora bivacchia a Città di Castello, dove una scolaresca non ha potuto attendere l'arrivo dei treni, nella sala di aspetto, nonostante pioggia e freddo. Poi ancora altre informazioni, sempre dai territori, da Magione ladri tentano il furto del banco, ma hanno provato a rubare una cassaforte a Sant'Arcangelo, la scoperta dei residenti della frazione, e poi sono stati individuati comunque anche grazie alle segnalazioni che sono pervenute in pratica dagli stessi residenti. Quindi si ricrea in fondo anche qui un senso di collettività a tutela della propria sicurezza. Per lo sport, premiati zone Castiglia, la festa organizzata dal Museo Maranto sul podio i due giocatori dell'Arezzo, intanto dopo Mister Indiani prolunga il contratto anche il suo vice Federico Vettori, questa è una garanzia in fondo anche per il prossimo campionato di Serie C, e ricordiamo a questo proposito che l'Arezzo manterrà gli stessi prezzi per gli abbonamenti, per gli abbonati di quest'anno. Vale a dire, chi si era abbonato quest'anno avrà lo stesso prezzo per l'abbonamento anche il prossimo anno nel campionato di Serie C, e questo in fondo anche per premiare l'entusiasmo, la fedeltà che i tifosi a Maranto, circa 900, hanno dimostrato verso la squadra. È tutto per questa edizione della nostra edicola Rassegna Stampa, grazie della cortese attenzione, vi lasciamo insieme con i nostri programmi. Buongiorno! Grazie a tutti!